Buonasera a tutti, mi chiamo Gaetano Benedetto, lavoro al WWF Italia, vi parlo di Mediterraneo e di Pesca. Era uno spazio inizialmente affidato alla mia Presidente, a Donatella Bianchi, che purtroppo per motivi di lavoro non è potuto essere qua e mi prega di salutarvi e di dirvi quanto condivida l'iniziativa e lo spirito dei valori che ci animano e per cui siamo qua. Il senso di questa mia riflessione muove da alcuni elementi e cerca di capire come un po' la pesca può diventare nel momento in cui viene gestita in un modo sostenibile un esempio di convivenza pacifica, civile e sostenibile per quanto riguarda uno spazio comune qual è quello del Mediterraneo. C'è un punto di partenza che voglio darvi, che è quello dell'ONU. L'ONU ha nel 2006 elencato una serie di fattori di crisi del Mediterraneo, ne ha messi insieme tanti, li vedete elencati qui, chiedo scusa del testo troppo lungo ma vi assicuro non lo leggerò. Possiamo dire una battuta che i problemi del Mediterraneo in realtà sono problemi che nascono a terra, sono problemi legati all'inquinamento, legati all'erosione delle coste, alla cementificazione, legate a tutta una serie di fattori antropici che vengono appunto da terra. Non è soltanto un problema che nasce dallo sfruttamento del mare che poi è un po' l'argomento che tratteremo. La cosa incredibile è che tutti questi problemi, davvero tutti, hanno delle risposte, hanno delle soluzioni che sono state individuate, cioè hanno delle regole, hanno delle normative, hanno delle convenzioni e queste cose non stanno funzionando. E possiamo anche dire che nessuno dei fattori di impatto ambientale che ci sono sul Mediterraneo sono in qualche maniera sotto controllo, in diminuzione o in una fase di soluzione. E il dramma, sempre stando a quello che ci dicono le Nazioni Unite, è che questi impatti andranno tutti ad aumentare. E andranno tutti ad aumentare non fosse per il semplice motivo che la popolazione sul Mediterraneo andrà ad aumentare, perché c'è una concentrazione di popolazione che va sulle coste e che porterà probabilmente al 2050 a una popolazione stimata tra i 250 milioni e i 300 milioni di persone sulle coste del Mediterraneo. A fronte di questa situazione non abbiamo la percezione di quello che è il valore del Mediterraneo, un valore che è un valore certamente culturale, lo vedremo tra un attimo, ma è un valore straordinario anche da un punto di vista naturale e da un punto di vista economico. Noi non abbiamo la percezione che in un mare così piccolo, lo 0,8% della superficie marina di tutto il pianeta, si concentra il 7% della biodiversità marina di tutto il pianeta. Guardate, 580 specie di pesci, 21 di mammiferi marini, 48 squali, 36 razze, 5 tipi di tartarughe, 1.286 specie vegetali marine. È uno spaccato di quello che c'è all'interno del nostro mare. E qualcuno, sempre nelle Nazioni Unite, in un programma speciale nel 2011, ha stabilito un po' quello che era il valore rapportato in termini economici di questa biodiversità, arrivando a fare una cifra che è di 26 miliardi di euro. E in questo valore le persone più ricche siamo noi, è l'Italia, perché l'Italia è il paese che ha maggior biodiversità e che è stato stimato che all'incirca 9 miliardi di questi 26 miliardi appartengono al capitale naturale che può essere ascritto al nostro paese. Ora, la storia dello sfruttamento di questa risorsa legata alla pesca è una storia che viene da molto lontano, queste sono delle immagini di mosaici che stanno a Cartagine, siamo nel secondo secolo dopo Cristo, però bisogna partire dal fatto che quando parliamo di pesca non parliamo soltanto di un'attività economica. La pesca nel Mediterraneo, la pesca come altre attività umane, ma la pesca soprattutto nel Mediterraneo è anche cultura, pensate a quello che è stata la capacità di trasmettere la conoscenza legata alla pesca, dal modo di costruire le barche, l'orientamento, l'astronomia, la conoscenza dei venti. Ebbene, intorno a questa cultura la pesca nel Mediterraneo è caratterizzata dalla piccola pesca, dalla pesca artigianale che ancora è basata su elementi di conoscenza molto simili a quelli di secoli fa. Intorno a questa conoscenza e a questa cultura nel Mediterraneo lavorano 110.000, 120.000 persone, parlo dei pescatori professionisti, c'è una flotta di 40.000 pescherecci, molti dei quali sicuramente vecchi, ma la gran parte di questi pescherecci sono piccoli, sono più piccoli di 12 metri e riusciamo ad avere uno sfruttamento nel Mediterraneo incredibile. Pensate che il pescato, compreso il Mar Nero, è di 1.500.000 tonnellate e di questo 1.500.000 tonnellate un terzo appartiene alla comunità europea e di questo terzo che appartiene alla comunità europea la metà, circa 260.000 tonnellate, sbarca nei porti italiani. Allora c'è forse un problema e basta questa roba e ne prendiamo abbastanza. Noi pensiamo sempre che siano gli ambientalisti a sollevare problemi, a creare allarmi inutili. In realtà questi sono dati molto ufficiali. Il fatto che la pesca nel Mediterraneo sia ipesfruttata e che molte specie sono a un momento di stress appartiene ad una serie di analisi delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea che come sappiamo finanzia in maniera importante il settore della pesca. L'Unione Europea è arrivata a sostenere col comitato scientifico e tecnico che sovrintende poi alla Commissione Europea per quanto riguarda l'erogazione dei finanziamenti, che noi avremmo bisogno di ridurre il peso della pesca di una media del 45-51%, con una media del 90% per quanto riguarda alcune specie. Ve ne dico una, il nasello, non stupitevi, vediamo poi tra un attimo perché. E la situazione della pesca italiana per alcune caratteristiche è per certi versi ancor più preoccupante. Alcuni dati sono incredibili perché l'Unione Europea ha certificato lo stato di crisi e la commissaria europea ha dichiarato che noi abbiamo una situazione di sfruttamento eccessivo per il 96% delle specie che vivono a profondità elevate e per il 71% delle specie che vivono ad acque intermedia o d'acque basse è in uno stato di stress. L'unico dato scientifico che risulta in controtendenza incredibilmente dopo oltre 20 anni è quello del tonno rosso, ma sono dati recenti e sono anche dati abbastanza contestati. Poi arrivo a dirvi anche perché rispetto a questa questione. Quali sono le specie più colpite? Ora c'è una ricerca molto interessante che è stata fatta da un istituto ellenico, lo vedete citato lì, l'Ellenic Center of Marine Research, che ha fatto un'analisi degli ultimi 20 anni facendo vedere appunto quelli che sono le tipologie di pesce che hanno maggiormente subito questo shock. Si parla di naselli e di triglie, sogliole, rombi e queste specie in particolare di naselli e rombi sono quelle specie che vivono a bassa profondità, le stesse che l'Unione Europea ci ha detto essere sfruttate al 91% rispetto alla quantità di specie. Le altre acciughe sardine, le acciughe paradossalmente sono quelle che maggiormente meno risentono di problematiche di sovrasfruttamento perché sono quelle legate appunto alla piccola pesca. Il problema è che quando noi peschiamo andiamo a interferire con una serie di altre specie che sono delle specie particolari come ad esempio i cetacei, come ad esempio le tartarughe, come ad esempio gli squali. Vi stupirete leggendo questa statistica che è un progetto finanziato dall'Unione Europea, Tartar Life, Università di Ancona con il CNR. Il 71% dei pescatori italiani ha pescato almeno una tartaruga in un anno di attività, il 48% con la pesca a strasci, il 34% con le reti da posta. Bene, è incredibile la quantità di animali che rimane catturata per caso. Se io porto la percentuale, i numeri assoluti, il CNR ha stimato che si pescano accidentalmente al Mediterraneo qualcosa come 140.000 tartarughe ogni anno. Una situazione sicuramente enorme. Finisco rapidamente e salto molte slide. Io voglio dirvi, è possibile arrivare a una pesca sostenibile? L'Unione Europea ha fatto un percorso, il percorso è molto molto complesso, parte dal 2006. Il fatto è che tutto questo percorso è un percorso che prevede un grande coinvolgimento dei pescatori, un grande coinvolgimento delle marinerie, un grande meccanismo che presuperrebbe un controllo che non sempre c'è. Noi dovremmo avere un controllo per quanto riguarda le tipologie di pesche, le tecniche, per quanto riguarda la taglia del pesce, le stagioni. Bene, se non c'è il coinvolgimento diretto di queste persone, noi non riusciremo mai a arrivare a una pesca sostenibile. E il tema è che dovremmo controllare i soldi che l'Unione Europea va a finanziare. Guardate, i soldi finanziati per l'Italia dal 2014 al 2020 sono 537 milioni di euro su 5 miliardi e 749 milioni complessivamente stanziati dall'Unione Europea. C'è una possibilità. Io finisco in un modo diverso da come ho immaginato, perché volevo finire dicendovi che c'è una scommessa sul Mediterraneo che lega la convivenza dello spazio comune, la scelta del vivere insieme delle regole a un riconoscimento reciproco di civiltà, di culture diverse. Quando parliamo di pesca parliamo e pensiamo ai nostri marinai della Liguria o della Campania, non pensiamo magari ai tunisini oppure ai marinai turchi. Però nel Mediterraneo c'è qualcosa di più che sta succedendo. Io voglio saltare, chiedo scusa, la relazione era sicuramente più lunga, e farvi vedere questo. Perché quando parliamo di pesca, parliamo delle nostre acque territoriali, ma non dimentichiamo che il Mar Mediterraneo è fatto anche di acque internazionali, dove vige una sorta di libertà assoluta, non di non governo, ma di libertà assoluta. Si parla di libero mare. Sapete che cos'è questo? Questa è una fattoria dei tonni. È una fattoria dei tonni in acque internazionali, nel canale di Sicilia. Negli spicchi i tonni sono per accrescimento, a seconda di da quanto tempo sono, dal peso che hanno, no? E vanno un po' a rotazione. Come si nutrono questi tonni? Si nutrono in questa maniera, esattamente come il bestiame. Vengono allevati, esattamente come le mucche. Gli si dà gli antibiotici perché vivono ammassati. Vengono poi prelevati attraverso un sistema di cattura con i subacquei che entrano. Vengono portati sulle navi, vengono surgelati e vengono mandati altrove. Vengono mandati soprattutto in Giappone, dove noi abbiamo un sistema di consumo molto particolare, legato ad alcune tradizioni. Ma noi pensiamo al Giappone. Avete fatto caso che nei ristoranti italiani, dove c'era scritta la cotoletta alla binanesi, oggi c'è la tagliata di tonno, per cui aumenti di consumo che sono assolutamente incredibili. Ma non prendiamocela con i giapponesi, perché quando mangiamo i gamberetti, noi che compriamo al supermercato, magari surgelati, non pensiamo che quei gamberetti vengono dal sud-est del crisiatico e per essere stati fatti, mediamente, hanno sventrato una foresta di mangrovie, perché si creano le piscine naturali, all'interno delle quali è più facile, evidentemente, coltivare i gamberetti. Bene, torno al tema e chiudo. Il mar Mediterraneo e la pesca è un mare che rappresenta, a mio parere, la scommessa della convivenza del mondo. Non c'è un altro posto nel mondo dove si uniscono tre continenti, tre religioni, venti passapesi, situazioni diverse. Se noi siamo in grado di creare nel Mediterraneo con gli studenti che abbiamo, con l'applicazione delle normative che sono state anche firmate da questi paesi, un momento di convivenza, un momento di regole comune, una capacità di gestire in autonomia degli stati e quindi delle popolazioni di quegli stati, le risorse di quel mare, io credo che noi faremo quella che è una sperimentazione di convivenza unica al mondo, dimostrando che la convivenza è possibile al mondo. Grazie.